Grazie a tutti Ciao Allora Innanzitutto che dirvi Grazie per avermi atteso Io sono felicissimo di essere qua Perché il mio sabato è anche mezzo simbolo E visto che E' anche brutto dirlo Ma è un problema mio C'è il fatto che avremo un altro aereo Dopo per ora io ringrazio subito la disposizione Per dedicare giustamente un po' di tempo A tutti che è meritato Grazie e anche grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.